L'occasione è unica perché abbiamo due donne tedesche alla guida dell'Europa, in sostanza abbiamo il semestre europeo a guida tedesca con la Merkel e con la von der Leyen, sua ex ministro oltretutto, che guida la Commissione europea. In realtà il discorso non ci sono stati sbilanciamenti, la commissaria, la presidente von der Leyen è stata più dura e quindi la sua proposta è ben precisa e definita. La Merkel ha parlato di compromessi, arriviamo ai compromessi di diritti umani, di stati di diritto, che ci sta per carità, ma di fatto noi non possiamo accettare un compromesso al ribasso rispetto alla proposta della Commissione europea, che è quanto ci è dovuto, è il minimo che l'Europa può fare, quindi vuol dire un recovery fund presto, entro l'anno, con risorse fresche e nuove, un quadro finanziario pluriannare, quindi un bilancio europeo finalmente, che vada definito dal Consiglio europeo con risorse proprie nuove, il che vuol dire la digital tax, il che vuol dire quindi web tax e anche la carbon tax, ma per me anche la plastic tax, visto che è una Commissione europea che parla tanto di green new deal, che sia un green new deal, che non sia un green washing, anche sull'idrogeno si parla tanto di idrogeno, oggi c'è stata la presentazione con Timmermans, ma attenzione, idrogeno verde, non idrogeno blu, altrimenti non abbiamo assolutamente risolto nulla, vuol dire affidarsi al gas che è sotto la parvenza di gas naturale, ma sempre fonte fossile, è oltretutto una fonte fossile clima alterante. È il momento del coraggio, quindi adesso l'Europa ha bisogno di cambiare e la Germania, visto che di fatto insieme alla Francia dirigono, spostano equilibri in Europa, devono dimostrare che l'Europa deve cambiare passo, altrimenti ben vengano quei patti, noi il patto del Mediterraneo lo vogliamo chiamare, noi il movimento lo avevamo sperato che ci fosse un patto dell'Europa Mediterranea e quindi Spagna, con la Spagna e con il Portogallo di alzare la voce in Europa, che oltretutto insieme alla Francia siamo i paesi più colpiti dalla crisi economica data dal Covid.